Prima sconfitta della stagione per il Napoli di Benitez-Kesce dall'amichevole con il Paris Saint-Germain degli ex Cavani e Lavezzi con molti dubbi e poche certezze in vista del preliminare di Champions del 19 agosto contro l'Atletic Bilbao. Senza annuncia sorpresa da parte di De Laurentiis con una linea d'attacco dove Iguain appare ancora imballato e Zapata e Michu non all'altezza, il Napoli potrebbe faticare non poco a superare l'avversario, ma il centrocampista Gokkaniller è fiducioso. Allora le sensazioni sono grandissime perché giocare contro una grande squadra che ha già fatto due partite importanti in campionato sia in una Coppa è una squadra fortissima e noi siamo ancora in preparazione, mancano una settimana quasi per sfidare veramente alla grande con questo spirito che abbiamo fatto fino ad ora. Saremo pronti per il 19.